La riviera del Brenta ha perso uno dei simboli del luogo, Villa Fini, rasa completamente al suolo. In questi giorni sui social network in tanti stanno mostrando le foto di come la struttura era prima nel suo splendore e cosa rimane adesso. Un cumulo di macerie fa male solo a guardare. La famiglia Piva è scampata alla tragedia grazie al caso che li ha voluti fuori dall'edificio. Marito e moglie, medici, erano impegnati per lavoro fuori, erano stati chiamati per un'emergenza. I figli erano da alcuni amici. Antonio Piva guarda il cumulo di macerie e si commuove, pensa ai danni ma commenta «Siamo tutti vivi e questo è quello che conta, non so cosa avrei fatto se là sotto ci fosse stato qualcuno dei miei». Dentro casa c'era solo il gatto di famiglia, Sam, che è stato tratto in salvo dai soccorritori. Sam era rimasto sotto le macerie, si sentivano solo i miagolii, il gatto è stato trovato e portato in salvo. Poco distante da Villa Fini, un'altra storia di coincidenza miracolosa. Protagonista la padrona di casa e il suo cane, l'animale poco prima del tornado si era rifugiato sotto il tavolo. La donna lo aveva raggiunto per capire cosa avesse e in quel momento è arrivato il tornado che li ha travolti. Parte dell'edificio è crollato, ma lei si è salvata perché era andata proprio lì sotto. Grazie. Grazie. Grazie.